Il collegamento a cui tengo moltissimo, però riparto da De Manzoni. La scaricherà l'app perché sì o perché no se non la scaricherà? Prego De Manzoni. Non la scaricherò per niente al mondo. I miei diritti costituzionali, la mia libertà, sono stati fin troppo conculcati fino ad ora. Non vedo perché devo dare i miei dati a una società privata con scarsissima trasparenza. Non vedo l'applicabilità di questo sistema. Faccio fatica a vederlo e non ci credo e quindi non lo farò. Vorrei che finissimo con questa ossessione del virus e della vita che conta più di qualsiasi altra cosa. Non è così. Altrimenti i santi nostri, i martiri, li dovremmo chiamare deficienti e i nostri eroi dovremmo chiamarli addirittura dei criminali. gente che ha sacrificato la propria vita per la libertà. Stiamo esagerando. Parenti, stiamo esagerando.